Sono Barbara e mi fa piacere raccontarvi la storia di Cocò, la mia gallina. Cocò è arrivata circa un anno fa, mentre stavo tornando a casa era già buio e vedo questa figura biancazza sul ciglio della strada. All'inizio non sapevo proprio che cosa fosse, accostando invece mi sono resa subito conto che si trattava di una gallina. Meno male, mi sono ricordata che in macchina avevo con me un asciugamano e sono scesa e ho provato ad acchiapparla. Dopo 1, 2, 3, al quarto lancio finalmente sono riuscita a coprirla e non vi dico gli strilli che faceva, non voleva proprio venire con me. Arrivata a casa l'ho lasciata nel trasportino per la notte unita alle altre galline, ma già la mattina dopo mi sono resa conto che aveva un bellissimo carattere. Infatti essendo molto docile, socievole e tranquilla ha subito legato con il resto delle galline e la cosa bella è che mi lascia ogni giorno delle meravigliose e buonissime uova con la caratteristica di essere di colore bianco, perché lei come tutte le galline nivonesi fa le uova bianche uguali al suo piumaggio. Le galline sono esseri meravigliosi e sono capaci di sensibilità, dolcezza, affetto al pari di un cane, di un gatto e meritano tutto il nostro rispetto, amore e considerazione. E ora...